Tocco per Paggio che prolunga su Schillaci e ancora tenda la combinazione con Schillaci chiude Magratti il tocco, solito lancio lungo sul quale c'è il buon col per testa di Mandini Morris ancora in profondità a cercare Magratti è su all'ultimo tocco, la rimessa era azzurra il cross di Morris dall'altra parte il pallone carambola su Magratti fermato, Donadoni in copertura Ferri, Mandini, Giannini, Ferri, Zenga sull'attacco di Magratti Magratti Hawken pericoloso inserimento degli irlandesi con posizione poi regolata preoccupato da Schillaci che anch'io ritengo il miglior giocatore irlandese però Schillaci è un centrocampista quindi c'è sempre tempo di andarlo a prendere dopo batte appunto Schillaci, Magratti li mette in mezzo ma degli azzurri prova Schillaci la battuta a lunga distanza sul rimpallo è pronto Magratti poi c'è questo grande intervento di Baresi in scivolare Donadoni verso Baggio in ritardo palla ora Magratti a terra un irlandese fuori gioco intanto segnalato da si tratta di Morris Bonadoni Ferri retrocede Ferri da ancora Baresi e Baresi è costretto a rifugiarsi nel passaggio d'indietro molto fastidio foto di testa di Baresi palla ora a Ferri un disimpegno viene gioco fermo e punizione per gli azzurri battito da stesso Baggio per Schillaci va Schillaci viene spostato irregolarmente da Magratti calcio di punizione va ribattuto Ini in posizione quasi costantemente centrale Denagli si allunga troppo il pallone vince il contrasto ma la ribattuta è di Magratti Magratti mette in mezzo e c'è questo gran colpo di testa con splendida risposta di Zenga gran colpo di testa di Quinn e parata di Zenga molto bella anche l'azione che ha portato Magratti a fare il cross e sappiamo che loro sono molto bravi sulle palle alte e Zenga comunque è una bella lotta fra i due portieri credo che ci siano di fronte i due più bravi portieri di questo mondiale forse i due fra i più forti Paggio Rimpatti Giannini Paresi arresto di Magratti palla per Morris De Agostini e poi anche parte il lancio verso Baggio il colpo di testa è di Magratti Paris si porta a Staunton Donadoni Donadoni mette in mezzo chiude Magrath Orbice riesce a colpire i testa Schillaci poi McCarty si gira Aldridge tocca fuori a Magrath attraverso l'immediato il fuorigioco e sono tremendi in queste forse il scherzino destro Morris poteva essere in linea con Baggio però la combinazione con Giannini ed ecco a sostegno Donadoni prova il destro Donadoni con qualche guai il cross colpo di testa di De Agostini arresto di Baggio su di lui è presente a centrocampo Giannini la palla per Donadoni accompagna De Agostini da quest'altra parte sulla carambola c'è Schillaci che si incrocia con Baggio su Schillaci arriva Magrath calcio di punizione a Giannini Giannini sguscia via centrocampo dà in profondità ma intercetta Magrath pallonetto in profondità recuperato da Sheridan quindi